La bella, brava e simpatica Giulia Delellis, ospite della trasmissione Poveri Gio 5, avrebbe visto delle donne che avrebbero sfilato all'interno del programma TV in questione, modelle curvy, quindi modelle morbide, formose, giuroniche, procaci, ed ecco che per l'appunto si sarebbe espressa a proposito delle forme pesanti, nel senso che avrebbe dapprima strabuzzato gli occhi più volte durante i filmati in cui sfilavano queste donne e poi avrebbe detto le seguenti parole, per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto 4 delle 1000. Avrebbe poi corretto il tiro e avrebbe comunque fatto sapere che le donne non si imbarassano a mostrarsi così come sono e hanno la loro idea propria della sensualità, intesa come per l'appunto una voglia di farsi vedere, farsi notare, ma al tempo stesso farsi apprezzare. Io, cara Giulia, ti dico che a me le donne morbide mi sono sempre piaciute, per me non c'è nulla di mare, anzi, sono donne di cui ho una stima, un affetto infinito e incondizionato. Però è giusto che ci siano visioni di punti di vista differenti, perché è bene che ci sia dialogo e che ci si arrivi appunto a confrontarsi apertamente. Detto ciò, ti ringrazio per l'ascolto, ti ringrazio per la visione e il video termina qua. Un saluto e a presto.